caro marco lincetto da quanto tempo non ci si vede for me è quasi passato un anno e mi sa di sì mi sa di sì alla fine noi ci incontriamo sempre in quel luogo che credo sia un po oggetto di questa intervista sì e non solo perché tu sei praticamente fuggito scherzo ovviamente in un paese bellissimo che adoro ci vedremo sicuramente non manca l'occasione come ti ho già anticipato sia per accudire un prodotto a cui io sono molto caro che condivido che è un videoproiettore ma non è questo l'oggetto della nostra chiacchierata oggi ma ci incontreremo sicuramente prestissimo in una delle fiere di settore che frequenteremo insieme perché l'oggetto di questa chiacchierata è proprio questo cioè questo calendario fitto di appuntamenti nel diciamo nel trimestre più caldo dell'anno quindi settembre ottobre novembre che quest'anno dopo aver archiviato quasi completamente la pandemia finalmente è ripartito e quindi diciamo l'occasione di parlare con te per analizzare i prossimi appuntamenti non solo nazionali ma anche ci mettiamo dentro anche quelli internazionali e anche perché so che hai delle novità che saranno rivelate proprio in occasione di alcuni di questi appuntamenti sì diciamo sicuramente presentate concretamente al pubblico come piace a me come piace a noi cioè nel contatto umano diretto in realtà come sai questo nuovo corso di valuto luna l'ho già abbondantemente presentato nel mio spazio online nel mio canale youtube però però diciamo arriveremo all'autunno proprio nel pieno dell'offerta e con anche appunto due novità proprio fresche di stampa e pensate appunto anche per la presentazione a queste manifestazioni quindi sicuramente anche per noi sarà quest'anno un momento molto importante anche perché un conto è presentare avere anche buoni riscontri di vendita il prodotto un conto è sentire dalla viva voce delle persone ripeto come piace a me il feedback su quello che abbiamo fatto no perché poi alla fine noi crediamo molto in quello che facciamo ma è anche importante sentire cosa ne pensano le persone gli amici i clienti fammi usare anche questo termine un po brutale non è solo quello è anche il piacere di ascoltare quando tu racconti gli aneddoti le note tecniche di come è stato realizzato il disco questo è anche la diciamo il valore aggiunto che abbiamo quando presenti dal vivo questo tipo di prodotti sì in effetti diciamo che mi viene naturale probabilmente anche perché sono le mie produzioni forse a differenza di di molti altri produttori sono veramente pensate da me dal dal a la z anzi dalla da prima della nascita quasi sempre ormai le mie produzioni le penso io e poi le propongo agli artisti capita ancora raramente che siano gli artisti a propormi qualcosa che poi mi piace però nell'80 per cento dei casi sono io a pensare al progetto e dal momento in cui l'ho pensato identifico gli artisti scelgo il posto dove registrare registro mix o masterizzo insomma sono vagamente assolutista in queste cose però alla fine credo che questo mi consenta di mantenere una linea che poi le persone che vanno ad ascoltare sanno riconoscere credo che abbia anche questo una certa importanza comunque partiamo da queste fiere da questo calendario pazzesco non senza aver fatto prima una piccola parentesi perché insomma ci ricordiamo tutti del top audio video show di cui l'ultima edizione se non sbaglio fu quella del 2012 esattamente che raccoglieva di fatto quasi tutto quasi tutto il mercato dell'audio anche del video non solo italiano ma anche internazionale e che poi insomma esplose chissà se prima o poi riusciremo a fare un una puntata un servizio proprio sulla sulla storia del top audio e quali furono le cause per l'implosione di questa bellissima manifestazione e sarebbe molto molto importante perché io ho un'idea ben precisa se vuoi te la espongo anche sull'attualità di queste fiere no io ho notato una cosa che tu giustamente hai sottolineato come il top audio finisce nel 2012 che se vogliamo è l'inizio della vera crisi del mercato la vera crisi del mercato era cominciata già nel 2010 2009 2010 ma sicuramente nel 2012 era conclamata da quel momento a fronte di una inevitabile e che gli operatori non mi vengono a dire il contrario perché io so quello di cui parlo dicevo una inevitabile e progressiva contrazione del mercato io ho notato una progressiva esplosione aumento delle manifestazioni di settore è una cosa abbastanza curiosa ma non ho potuto non notarlo e al di là del fatto che io adesso non voglio mettermi a fare il censore non voglio dire tu puoi fare la mostra tu no cioè cose ovviamente folli chiunque finché esisterà un libero mercato come si dice no una libera imprenditoria ha il diritto e forse per se stesso anche il dovere di fare quello in cui crede quindi se ci sono tante persone che credono e hanno questa idea di organizzare delle fiere beh venga poi come sempre il mercato a decidere in teoria dovrebbe essere così no però certamente questo affollamento di manifestazioni alla fine io credo che possa creare un problema sia agli operatori e anche al pubblico proprio perché il pubblico è sempre più piccolo io alla fine ho notato che spostandomi come operatore in varie manifestazioni alla fine le facce sono sempre quelle cioè sono quelle le persone che si spostano da un'occasione all'altra allora come dicevo fermo restando che non voglio censurare nessuno e ci mancherebbe altro però almeno e questa è una cosa che io dico da anni trovare un minimo di coordinamento fra questi organizzatori perché andare a concentrare adesso lasciamo perdere quegli stranieri che ovviamente ma almeno in italia mettersi d'accordo abbiamo 12 mesi a disposizione diciamo pure 9 mesi escludendo l'estate lo so ti vedo che storci il naso è impossibile figurati parlo di un'esperienza personale anche diciamo vicina perché fa parte proprio di queste prime due tre date che adesso analizzeremo cioè non siamo riusciti a mettere nella stessa stanza più distributori di cuffie per esempio figura di mettere d'accordo gli distributori per fare una grande per rifare un top audio poi in realtà qualcuno ci ha provato con scarsi risultati in realtà ci hai provato anche te perché io mi ricordo nel 2013 la prima e unica edizione dell'audiario e se vuoi ti spiego la storia di quella cosa lì però aspetta però facciamo facciamo primo riassunto per chi non sa che di che cosa stiamo parlando allora il top audio prima sim il top audio è stata la manifestazione più importante che era anche riconosciuta a livello internazionale cioè arrivavano ospiti stranieri arrivavano distributori importanti e c'erano praticamente cinque piani del hotel quark a milano zona sud ovest di milano non lontano da opera per capirci con un hotel con degli spazi espositivi importanti e poi cinque piani dal meno due al più due giusto compreso il piano terra piano di stand e qui possiamo vedere qualche immagine di repertorio dell'edizione del 2012 dopodiché ripeto ci fu un'implosione mi piacerebbe dedicare un video solo su questo non solo con tema anche con altri personaggi però sta di fatto che non si è non si è riusciti a diminuire gli spazi e a far vivere questa manifestazione perché l'hotel quark come sappiamo è stato chiuso per altri motivi non certo per il top audio quindi ci sarebbe stato anche il problema di trovare un'altra location e a milano non è così semplice trovare una location con un costo accessibile che permetta di fare una manifestazione del genere di fatto c'è stata la crescita della manifestazione di zaini ovvero ai fidelity che ormai c'ha due date a milano una data a roma la crescita c'è la partenza la crescita anche delle di altre fiere come diciamo locali come il bari high end i gran galà e altre fiere ancora più diciamo super locali ma anche eventi nei punti vendita come bacco tabacco e vinile per esempio di hi fi di prinzio sintonie di angelucci che adesso si è trasformata poi lo vedremo quindi sono tante le fiere di settore come detto c'è una grande offerta in questo momento anche forse anche un po' tanta però sta di fatto che dopo l'implosione del top audio nel 2013 usci fuori l'audiario che hai creato te in cui noi che appoggiamo ovviamente c'eravamo anche noi la prima edizione insieme a marco cicogna adesso mi puoi dire questo diario com'è nato allora io non faccio mistero ovviamente che per noi produttori discografici anche per i distributori queste manifestazioni sono un'occasione di vendita diretta non giriamoci attorno quindi di business vero il top audio con l'importanza che aveva per noi valeva economicamente molto anche perché ricordiamo che il top audio durava quattro giorni quattro giorni che non erano quattro giorni buttati un po lì perché già dal giovedì c'era movimento poi vabbè il clou il sabato e la domenica ma insomma tutti quattro giorni pieni giorno in cui noi facevamo ottimi affari e ricordo che all'epoca come diciamo parallelo al top audio c'erano le manifestazioni zaini che ha iniziato se non sbaglio nel 2002 con le sue manifestazioni ma che all'epoca un po vivevano non dico nell'ombra per carità anche perché stefano da subito ha caratterizzato molto intelligentemente le sue manifestazioni in modo molto forte e molto precipuo quindi non è che fossero nell'ombra ma erano sicuramente ripeto dal punto di vista dall'ottica del venditore di dischi commercialmente meno meno significative io ovviamente partecipavo anche alle manifestazioni di stefano però perdere il top audio è io letteralmente mi sono mi è crollato il terreno sotto i piedi allora ho detto cosa faccio cosa faccio non possiamo stare senza top audio vabbè lo faccio io lo faccio io è stata proprio una cosa nata sull'onda della paura di perdere un esposizione di perdere un punto vendita importante e non a caso quell'audiario non l'ho fatto a casa mia o vicino a casa mia no l'ho fatto a milano e per di più vicino in un alberto vicino a dovere il top audio quindi non è che avessi in mente di rifare il top audio ma sicuramente di continuare a proporre anzi anzi aggiungo l'hai fatta tra il top audio e la i fideliti di zaini sì ma attenzione io l'ho fatta nelle date di settembre l'ho fatta nelle date di settembre che sarebbero state quelle del top audio e ripeto non a caso ho detto no non devo perdere cioè poi ovviamente è stata io credo una buona manifestazione che è andata anche bene la gente apprezzato ma ovviamente lontanissima dai numeri che poteva fare il top audio questa organizzazione mi ha fatto capire fino in fondo quanto io faccio un altro mestiere e infatti poi non l'ho più fatta perché ho detto no o faccio il produttore di dischi impegnato come sono nelle produzioni in tutto quello che è il mio lavoro oppure faccio l'organizzatore l'organizzatore di fiere cioè mi sono reso conto che era totalmente incompatibile questo ruolo e però è stato fra l'altro ricordo sì io credo di averci rimesso in quella fiera perché un organizzatore che organizza in base all'entusiasmo e non con sane regole commerciali finisce col farsi del male no e quindi insomma l'insieme a dispetto del fatto che ripeto ha avuto molto gradimento perché io ricordo che erano tutti contenti dagli operatori alle persone che sono venute però appunto ho capito che non era la mia strada e quindi diciamo passato a questa onda emotiva di dire riempiamo il buco ho detto vabbè lasciamo fare ad altri che lo fanno meglio di me e in particolare stefano che poi da quel momento inevitabilmente è cresciuto in modo esponenziale ovviamente che nelle sue nelle sue offerte e quindi mi è sembrato più giusto continuare a svolgere a ricoprire il mio ruolo di espositore venditore professionista operatore ma non di organizzatore insomma comunque vediamolo questo calendario che ci aspetta dal dal 15 settembre fino a fine novembre io conto ben otto e venti di cui addirittura due in contemporanea e sono quelli proprio di gli ultimi di novembre ovvero il roma i fidelity e il gran galab di padua comunque si inizia in pompa magna il 15 settembre che un po molti hanno sorto il naso diciamo un po troppo presto troppo a ridosso dell'estate ma noi ricordiamo quali erano le date del top audio del top audio erano 10 11 settembre si partiva infatti vi ricordo che quando ci fu la la tragedia dell'11 settembre era in corso il top audio praticamente cioè 11 settembre accade tipo il giorno prima del top audio mi sembra è inizia l'11 settembre era un lunedì e il top audio iniziava per noi operatori fra il martedì e il mercoledì e io l'ho vissuta in diretta e ho bei brutti ricordi belli per la nostalgia quindi si parte il 15 settembre con un weekend lungo quindi venerdì sabato e domenica con sintonie audio video expo perché ricordiamo che l'evento che era creato da angelucci ai fai prima al lanciano qualche anno fa si è spostato al pala congressi di rimini qualche anno dopo ha inglobato anche l'audio video show che era stato creato da marcello canè anche con il nostro supporto e quello di anche di altre persone e quest'anno sintonia è stato ceduto è stato acquisito da italian exhibition group quindi i e g che sarebbe la fiera di rimini che ha investito e sta diciamo portando avanti un progetto per farlo diventare praticamente quel che era il top audio almeno queste sono le intenzioni quindi non solo audio ai fai e high end ma anche video home cinema car che c'era già in realtà anche nelle altre edizioni e anche gaming accessori ovviamente produzione di dischi editoria specializzata eccetera e so benissimo che come meri stato coinvolto anche tu per questa edizione poi per vari motivi non ci sarai direttamente ma indirettamente ovvero grazie a me che userò il tuo software in alcune sale però sicuramente ci sarai l'anno prossimo sì sì senz'altro quest'anno diciamo che c'è stato come sai una un accavallamento di eventi qualche ritardo nella comunicazione e purtroppo purtroppo uno del degli svantaggi del mio trasferimento in spagna che io devo programmare con largo anticipo i miei movimenti verso l'italia e quindi per questo motivo non è stato possibile quest'anno partecipare comunque ricordiamo è un pala congressi che è una delle strutture più belle in italia con delle sale con pareti acustiche soffitti acustici che suonano già molto bene so già che c'è il tutto esaurito per quanto riguarda le salette ne hanno costruito addirittura delle altre ci saranno praticamente tutti i distributori più importanti tranne che io sappia mpi e audiogamma almeno non direttamente ci sarà l'audio video quello importante ci saranno video proiezioni sarà sony sarà gvc ci saranno i laser tv ci saranno c'è anche ci sarà anche una novità che è laica ci saranno novità di prodotto anche di video ci saranno i televisori anche le soundbar ovviamente ci sarà anche l'hi-fi non solo quello di fascia altissima ci sarà il car ci sarà anche il gaming ci sarà sony con la playstation 5 ufficiale insomma ci saranno parecchie novità ci saremo anche noi di av magazine e ripeto userò anche il tuo software per mettere alla prova i sistemi più importanti che incontrerò in questa fiera e ricordiamo anche che tu diciamo non ci sarai perché due settimane dopo c'è un altro appuntamento importante esatto che è la manifestazione autunnale di stefano zaini il milano ai fidelity show che sarà in realtà sono tre settimane dopo il 7 8 ottobre quindi sabato e domenica sempre all'hotel melià e quest'anno sarà una sezione particolarmente importante soprattutto per alcune novità che ci saranno poi ci sarai te ovviamente ci sarò anche io probabilmente vero sicuramente il sabato farò tutta la giornata non so se stavolta rimarrò anche domenica farò anche un reportage quindi preparati che ti ruberò sicuramente qualcosa un'intervista subito dopo quindi dopo il 7 8 ottobre la settimana dopo quindi il weekend dopo ci sarà ci dovrebbe essere il bacco tabacco e vinile che ormai cioè non è un evento di un rivenditore anche perché il rivenditore molto importante a fedi prinzo c'ha molte sale e gli anni scorsi sei stato ospite come me di questo mega evento permettimi di dire una cosa importante che ci tengo molto perché ecco non ci sarò quest'anno per gli stessi motivi per cui non sarò a rimini e ancora di più perché poi in quel esattamente in quel weekend lì ho una produzione qui in spagna da fare come ho ben spiegato a mino però a me dispiace moltissimo non esserci primo per l'amicizia che mi lega a mino che è una persona straordinaria e di cui sono sempre stato ospite accolto non bene benissimo proprio più che un operatore un amico a casa sua quindi il fatto di quest'anno per la prima volta dopo tanti tanti anni non andare alla festa di mino perché a me piace identificarla più come una festa quella di bacco tabacco e vinile proprio perché la fa a casa sua cioè non la fa in un albergo a questo spazio meraviglioso che gli consente di ospitare questi eventi e quindi mi dispiace sinceramente perdere questa questa opportunità spero magari l'anno prossimo sempre organizzandosi meglio ti trasferisci due mesi qui e facciamo sì esatto sì sì anche perché ci sono rumors per cui come anticamente c'era sintonie e c'era bacco e tabacco no che si intersecava magari c'erano bacco tabacco venerdì e sabato mentre sintonie sabato e domenica anche perché di prinzio a chietiscalo e sintonia a lanciano erano vicine geograficamente quindi diciamo che le persone magari riusciano a visitare entrambe le cose e quest'anno pare che insieme a bacco e tabacco ci sarà comunque qualcosa anche da angelucci adesso non so se ufficialmente o non ufficialmente comunque sarà anche un diciamo un weekend interessante quello del 15 14 15 ottobre e subito dopo c'è un altro weekend del 21 il 22 almeno sulla carta che è il gran gala di milano quindi ricci che torna con prepotenza per per organizzare un evento anzi non solo uno ma tre e poi saranno anche quello di padova che diciamo che era già ripartito l'anno scorso e poi addirittura anche un evento a roma quindi ci sarà l'evento di ricci di cui sicuramente c'è tempo per parlare e poi con una lunga pausa in realtà poi c'è il weekend del 27 29 ottobre in cui c'è una fiera internazionale ne parleremo tra poco e poi c'è l'11 e 12 novembre il gran il gran gala di roma almeno dovrebbe esserci il gran gala di roma e a distanza di altre due settimane il 25 26 novembre sabato e domenica l'ultimo weekend di novembre ci sarà la i fidelity a roma un'altra data importante noi sicuramente ci saremo tu ci sarai al roma i fideri marco e ci sarò anch'io certamente quindi sarai presente ma avrai anche qualcosa lì immagino beh io ho scalettato le uscite in modo da avere sempre almeno una novità per ciascuna di queste due fiere e sono proprio programmate per cui non si sbaglia e ma casomai dopo ne accennerà accennerò a quale sarà la chicca della fiera di novembre e la chicca della fiera di milano poi ovviamente si va ad accumulo per cui a roma di fatto avremo tutte le novità autunnale perché è l'ultima ma dopo ne parleremo un attimo vabbè sarà un appuntamento da non mancare e in contemporanea quindi negli stessi giorni del roma ai fidelli ci sarà anche il gran gala di padova probabilmente è stata scelta quella data perché non c'erano alternative certo sono geograficamente molto lontane ma non penso sarà semplice per qualche distributore scegliere a quel punto ti vedo ti vedo molto diplomatico emidio mi vedo diplomatico perché diciamo come testata giornalistica cerco di rimanere super partes ovviamente collaboro con entrambi e soprattutto i nostri clienti tra virgolette che sono rivenditori o anche distributori e spesso ci chiamano a supporto per questo tipo di manifestazioni magari faranno entrambe quindi lì sarà veramente un gran problema ma emidio proprio questo volevo dirti io non voglio smuoverti dalla tua giusta e corretta posizione diplomatica però mi permetto di farti una domanda se posso permettiti mi permetto appunto mettiamoci posto che queste due manifestazioni siano entrambe importanti posto questo non ti pare una forzatura a dover costringere un operatore a scegliere una delle due cioè intendo dire i nostri operatori di settore parliamoci chiaro forse nemmeno i giganti come audiogamma ed mpi possono permettersi di fare due fiere contemporaneamente a 500 chilometri di distanza quindi è inevitabile che dovrà essere fatta una scelta e posto che la manifestazione di roma di zaini è stata annunciata circa un anno fa forse qualcuno poteva ipotizzare di farla una settimana prima una settimana dopo e non in contemporanea però questa è una mia considerazione naturalmente che vale per quello che vale allora ovviamente giustissima la considerazione la condivido ma l'ho anticipato subito sarà molto difficile per alcuni distributori scegliere saranno i rivenditori sicuramente di zona penso per esempio a padova a luca sissie per esempio di già distributore con di svs per esempio e di emotiva ma che ha però un negozio che sound image a padova e con cui abbiamo per esempio l'anno scorso l'edizione del gran gala di padova è stata particolarmente ricca di contenuti noi eravamo noi di avv magazine eravamo con loro e con la partnership di di maranz italy per esempio con tutta la nuova linea un cinema di maranz i diffusori polk con un bell'impianto un cinema con tre proiettori a confronto perché c'erano sony e c'era anche jvc è stato un bel evento sicuramente quest'anno sarà difficile cioè sarà praticamente impossibile essere presente in entrambi bisognerà fare delle scelte immagino le faranno anche i distributori quindi certamente hai ragione io penso che ci abbia pensato non due tre ma dieci volte ricci prima di dare quella data sai certamente giulio cesare ricci è una persona intelligentissima e quindi ha fatto sicuramente le sue considerazioni più opportune a riguardo non c'è nessun dubbio su questo vedremo vedremo comunque non sono finite le manifestazioni italiane perché in realtà ricordiamoci che durante l'anno c'è anche la manifestazione molto importante che il bari high end a marzo quest'anno è stata fatta anche lì riuscitissima come presenza di pubblico soprattutto e anche di di prodotti distributori dove la dovresti pensare di fare una visita ma sono stato in passato sono stato in passato qualche volta e sempre con soddisfazione anche perché diciamo gli ottimi organizzatori del bari ai end diciamo agli ottimi organizzatori bari ai end piace vincere facile nel senso che sfruttano delle location da favola letteralmente sotto tutti i punti di vista ospitalità pazzesca cibo incredibile per cui chiaramente hanno anche quell'aspetto interessante sicuramente nel frattempo però tra queste otto date che abbiamo detto ci sono anche degli eventi internazionali c'è l'ifa vabbè l'ifa è appena passata dall 1 al 5 settembre dove però l'audio ormai praticamente non c'è più ci sono solo i televisori il settore mobile il bianco quindi elettrodomestici poi però c'è subito dopo il sintonie audio video expo c'è l'i fi show uno dei tre ai fi show forse quello più importante a londra ed è il weekend del 29 30 settembre e primo ottobre e io ci sarò perché l'organizzatore dell'i fi show che è paul mirler l'editore di i fi news ha pensato bene anche il presidente eisa e di incastrare l'evento il gran gala di eisa in cui vengono consegnati i premi che abbiamo pubblicato lo scorso 15 agosto proprio in occasione di questo ai fi show quindi noi saremo lì sarò anche con gli amici di audio review quindi sicuramente faremo il reportage di questa fiera importante e dopodiché c'è l'altra fiera importante del l'ultimo weekend di ottobre quindi 27 28 29 ottobre che è una data che qui in italia siccome è troppo vicina ogni santi non si fanno eventi perché magari la gente fa ponte va via invece a varsavia c'è l'audio video show di varsavia che è una fiera che è diventata importantissima e qui dovresti venire caro marco perché sono due location importanti che sono il due hotel vicini praticamente separati da una piazza che il radisson blu sobbieski c'è un altro hotel e sono il mi ricordo quale e poi c'è lo stadio nazionale con due anelli con tutti gli skybox più delle aree molto grandi dove c'è una quantità di installazioni e di prodotti sensazionale dove c'è l'i-fi quello vero c'è l'i-end io li ho visto e ho sentito sistemi che non non ne ho riuscito a sentire neanche a monaco per dirti c'è una specie di ken gen quindi c'è un'area cuffie amplificazione per cuffie sorgenti molto ricca e c'è anche l'audio video ci sono i televisori l'anno scorso c'era panasonic c'era sony c'era philips c'era anche la video pressione c'era sony c'era gvc insomma veramente tantissima anche l'audio video l'om cinema quindi quella una fiera emergente che dovresti venire a vedere assolutamente con tanti italiani non solo come espositori ma anche come visitatori ed è un po diciamo il format che 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 il target di sintonie audio video expo che ci sarà il prossimo settembre sì io credo che l'anno prossimo e sarà molto facile che mi organizzerò per varsavia credo sì ma è un appuntamento importante quasi quasi come monaco e poi è un posto guarda sembriamo noi negli anni fine anni ottanta parlo della di varsavia c'è entusiasmo i costi sono veramente molto bassi parlo degli hotel parlo del mangiare parlo anche del dei costi delle delle sale c'è degli spazi espositivi che sono veramente molto contenuti anche il banale taxi dall'aeroporto al centro costa veramente un'inezia ecco questo anche questo è un un parametro non secondario quando bisogna organizzare manifestazioni del genere forse anche questo il segreto no perché così ricca di di espositori e di distributori oltre che di pubblico sì io credo che mi organizzerò per l'anno prossimo come dicevo prima geopolitica internazionale permettendo naturalmente ma vogliamo essere ottimisti come si dice assolutamente so che c'è anche un denver sparso qua e là o sbaglio sì vabbè c'è prima di tutto c'è diciamo il primo secondo weekend di settembre c'è il sidia tipo 6 7 8 cioè il 6 sono le conferenze il 6 settembre poi 7 8 e 9 c'è l'esposizione vera e propria il sidia che diciamo la fiera sull'integrazione sull'audio video quindi non proprio high fire high end ma integrazione sistemi audio video eccetera anche di soprattutto di fascia alta dove però ci sono novità certo di quel settore quindi custom installation non cinema video proiezione però qui in europa c'è una fiera altrettanto importante che c'è diciamo a cavallo tra fine gennaio e primi di febbraio dovrebbe essere tipo 30 gennaio 2 febbraio l'anno prossimo a barcellona e si chiama ise integrated system europe in una location spettacolare facilmente raggiungibile all'italia anche con voli low cost e dove l'anno prossimo il 2024 mi organizzerò per venire in largo anticipo in modo da venirti a trovare assolutamente e poi magari andiamo insieme al questo ise così ti faccio vedere un po di cose interessanti barcellona valenza sono 310 chilometri insomma ed è molto ben collegata anche per dire con i treni ad alta velocità la spagna alla rete più ampia d'europa di treni ad alta velocità per cui si ci si muove bene in spagna non è un problema poi giusto guarda giusto un link che che ho trovato recentemente che non conoscevo ai fai show calendar dot com che un sito con l'elenco delle principali fiere di settore quindi audio video audio video eccetera dove non ci so qua c'è giusto una fiera italiana non ci sono le altre ma magari il tempo che uscirà questo video perché ricordiamo qui stiamo in questo momento è il 14 agosto sono quindi diciamo l'anteriore tre cose siamo entrambi al lavoro benissimo io tra poche ore c'ho l'embargo eisa che scade e poi stiamo preparando ovviamente contenuti per già per fine agosto prima di ifa però magari nel tempo che questa questo video sarà online quindi la prima settimana di settembre immagino marco magari ci sarà qualche altro riferimento benissimo marco io niente ti ringrazio sicuramente questo potrebbe essere un appuntamento da ripetere per anche magari dopo il milano ai fidelity per qualche feedback perché immagino che tu avrai modo di girarlo certo per fare opportune e chi meglio di te che li ha prodotti quei file può dare indicazioni sulle prestazioni di un sistema la logica suggerirebbe questo esatto comunque io trovo ho sempre molte molte sorprese quando giro per le sale e non nego che non sempre ma a volte capita che sale magari bastonate dagli utenti nei vari spazi online in forum e dintorni io l'ascolto con i miei file dico caspita suona bene quindi c'è sempre un po si apre un mondo su queste discussioni naturalmente no un mondo di relatività guarda io qua quando insomma dirigo diciamo una presentazione di un sistema devo sempre sottolineare perché mi è capitato più volte di leggere di andare a correggere soprattutto delle critiche di persone che magari erano in piedi in fondo o appiccicate al muro o magari troppo avanti quindi è chiaro che in eventi del genere purtroppo sono pochi i posti che ti danno la possibilità di ascoltare con la massima qualità purtroppo ci sono dei compromessi la maggior parte delle persone non capiscono fanno finta di non capire e utilizzano gli strumenti social per colpire magari questo quel marchio talvolta talvolta capita sì no diciamo questo e poi concludiamo veramente che viste le dimensioni delle fiere attuali che anche le più grandi purtroppo difficilmente sono confrontabili appunto con le dimensioni del top audio che richiedeva minimo due giorni per avere un minimo di contezza no delle esposizioni in teoria si potrebbero girare non dico in mezza giornata ma poco più allora io dico sempre suggerisco se voi arrivate in una sala che magari vi interessa e la trovate piena tornate dopo cioè aspettate ad entrare in una sala sfruttate questa giornata magari per far quattro chiacchiere e aspettate il vostro turno per sedervi nel posto nel focus dell'impianto perché veramente non ha senso come dici te ascoltare appoggiati alla porta d'ingresso cinque minuti sentire malissimo inevitabilmente qualunque cosa ci stia a suonare e poi criticare quindi prendersi il tempo visto che non sono così immense queste fiere e dedicare prendersi quel tempo per aspettare il momento opportuno e sentirsi ad ascoltare bene cioè mi sembra banale come considerazione ma forse non fa mai male ripeterlo no benissimo grazie ancora Marco a questo punto l'appuntamento con te è per il Milano ai Fidelity Milano ai Fidelity e poi Roma a fine novembre sempre Roma ai Fidelity certo grazie Marco allora ti racconterò io invece sintonie di sintonie di bacco e tabacco ok assolutamente saluto a tutti ciao